un caro saluto a tutti carissimi amici e amiche bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alla testimonianza di gloria polo ricordo lo troverete scritto sempre anche nella descrizione del video che il testo che stiamo seguendo che abbiamo cominciato a seguire dalla seconda puntata sul gentile consiglio del curatore è appunto il testo curato da flaviano patrizi sono stata alle porte del cielo dell'inferno nuova testimonianza della dottoressa gloria polo editrice email seconda edizione e perché è il testo come già detto a suo tempo però sempre bene ricordare approvato riletto e quindi diciamo il testo ufficiale approvato dalla dottoressa polo in persona e quindi quello maggiormente attendibile a cui fa riferimento per quanto riguarda anche il contenuto molto importante molto delicato delle cose che scrive abbiamo lasciato la volta scorsa gloria a colloquio con il nostro signore gesù cristo che aveva rammentato che insomma non è che era stata tutta questa grande osservante dei dieci comandamenti e le aveva poi mostrato il libro della vita a questo punto riprendiamo la lettura perché bisogna andare a vedere qualche cosa di quello che c'era scritto nel libro della vita e lo faremo subito senza perderci in esorbitanti e ridondanti preamboli ma ci andiamo a gustare questa nuova parentesi questo nuovo capitolo di questa nostra avvincente sicuramente avventura sperando che la vista non mi tradisca diamo avanti che qui ad esempio una preghiera per questo vecchierello che più tempo passa e più comincia ad accusare tutti quanti i mali dell'età che avanza sono ancora abbastanza giovane ma per certi aspetti sto diventando vecchierello vabbè anche se mi sento ancora un ragazzino però purtroppo questo è allora un attimo dispositivi silenziati se non ci stufano nel libro della vita vedi il matrimonio dei miei genitori li vidi in chiesa scambiarsi vicendevolmente il consenso matrimoniale promettersi l'un l'altro fedeltà nella gioia e nel dolore nella salute e nella malattia e di amarsi e onorarsi per tutti i giorni della loro vita sentite bene qui attenzione a chi si è sposato io queste cose le in parte le ho credo dette tante volte dio padre che gioina il vedere questi suoi figli pronti ad unirsi in matrimonio ho accolse le loro promesse matrimoniali e audite audite le scrisse nel libro della vita con caratteri d'oro di un brillio indescrivibile quando mio padre pose l'anello alla mia mamma e vennero dichiarati mariti e moglie marito e moglie audite audite o gesù stesso consegnò a mio padre un luminoso pastorale e celestiale audite audite ditemi in quale predica del sacramento del matrimonio se l'avete se avete mai sentito robe di queste pastorale celestiale al capo famiglia non alla mater familias attenzione simbolo della grazia dell'autorità di dio padre infusa in lui affinché la esercita nella sua famiglia e guidasse il suo greggio lungo il cammino di questo mondo ci sarà qualche padre famiglia sono tutte femminucce quelle che ascoltano queste catechesi lungo il cammino di questo mondo nel quale ci sono tanti lupi desiderosi di cancellare il matrimonio a mia madre invece dio pose nel fuoco nel cuore un fuoco grandissimo era l'amore materno di dio cioè ragazzi basta io chiudo la catechesi qui stasera c'ho questa tentazione proprio atroce 4 minuti e 40 secondi meditiamo per una settimana anzi per due mesi questa roba qua numero uno la santità del matrimonio che ci rendiamo scusate promesse matrimoniali scritte a carattere di toro quante volte ho detto agli sposi rinnovatevele sapete che per i religiosi padre pio lo faceva spesso ogni tanto si rinnova la professione religiosa d'accordo io signore prometto di vivere in castità povertà obbedienza seguendo la regola di san francesco senza nulla di proprio per quanto riguarda un francescano noi pro poveri preti ogni anno alla messa grismale anche se in forma un po troppo ridotta mi piacerebbe farlo un pochino più estesa rinnoviamo le nostre promesse sacerdotali sono sacre sono e gli sposi guardandosi negli occhi farebbero bene ogni tanto anzi ogni spesso a dirsi io francesco prendo te maria come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre guardano in faccia me ti dice nella gioia nel dolore nella salute nella malattia di amarti e onorarti tutti i giorni della tua vita tutti i giorni del no della tua della mia vita e viceversa a carattere d'oro in cielo pastorale il pastorale il pastorale c'era il vescovo amici cari il pastorale il segno dell'autorità sacra cioè conferita da dio chi esercita l'autorità dentro la famiglia è il pater familias attenzione che l'autorità questo vale anche per i vescovi e per tutte quante non è la come dire l'arbitrio la dittatura il despota questa non è l'autorità questa è la degenerazione dell'autorità perché l'autorità si esercita per il fine per la quale il nostro signore te l'ha ordinata e te l'ha concessa cioè servire tua moglie servire la tua famiglia prenderti la responsabilità delle decisioni più gravi ovviamente non come dittatore ma coinvolgendo e sentendo tutti ok portare tu i pantaloni e magari anche sconsigliare alla moglie di portarli anche lei che non è soltanto un simbolo ma anche un'espressione di di robe del genere essere tu il primo educatore dei tuoi figli perché finiscono bisogno anche del padre non solo della madre l'educazione non si delega alle mamme e la mamma che cosa riceve nel cuore un fuoco grandissimo l'amore materno di dio il marito si deve sentire amato dalla moglie amato e i figli si devono sentire amati dalla madre la donna nella casa è il polo dell'amore il padre è il polo dell'autorità questa è volontà di dio immutabile inviolabile le famiglie che non sono così sono famiglie disordinate sono famiglie sgangherate sono famiglie destinate al naufragio vado avanti va giusto per non ma sarebbe 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 da finire qui scusate se mi accaloro un po però a me vedere sto pianto greco in giro di matrimoni proprio che vanno a finire tutti quanti dicono in sicilia i miei amici siciliani a schifio perché costruiti no sulla sabbia ma sulla sabbia sarebbe già sulla sabbia sulle sabbie mobili no sulla sabbia sulle sabbie mobili e poi vissuti all'armata branca leone altro che sta roba qui ma che cosa che cosa ti vuoi aspettare e chi è che ne fa poi le conseguenze chi è che ne paga le conseguenze io mi sgono in continuazione anche quando qualche collaboratore o collaboratrice parrocchia si lamenta dei ragazzini dico ma che ti lamenti dei ragazzini ma questi che ma 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 tu lo sai questi da in che in che posti vivono in che posti vivono con me la loro famiglia ma che come fanno questi qui a uscire diversi da da come escono come è possibile cioè se il nostro signore fa un miracolo un miracolo tipo risurrezione di lazaro però non un miracoletto se non escono fuori così cioè non c'è niente da fare quindi non ti lamentare dei ragazzini piangiamo e piangiamo lacrime di sangue se la madonna ci consentisse di piangere anche a noi come le piangerei su cosa si sono ridotti i matrimoni io sto aggiornando lo sapete i libri che devo pubblicare sto aggiornando i dieci comandamenti che fu scritto tanti anni fa c'erano i dati istat aggiornati a dieci anni fa non avessi non fossi mandato a vederli lo sapete che i matrimoni civili hanno superato in su base nazionale quelli religiosi 54 contro 46 l'ho fatto la settimana scorsa in realtà è fresco sapete che le convivenze rispetto a dieci anni fa sono triplicate ma di che vogliamo parlare andiamo avanti mica finita ancora quando poi nel rito caristico successivo al rito matrimoniale bevono entrambi al calice del sangue dell'agnello si possono fare gli sposi la comunione sotto le due specie quindi è uno dei rari casi in cui si può fare vedi che suggellarono il loro patto con dio e furono completamente avvolti dal fuoco dello spirito santo la trinità completo quindi era presente accogliere le loro promesse matrimoniali essa fu davvero il supremo testimone della loro unione sacramentale nel ricevere la comunione eucaristica da unità duplice attenzione unità duplice divennero unità triplice perché il signore gesù sentite incorporò le loro due anime già unite in matrimonio al suo proprio cuore da quel momento divennero uno in dio è sempre detto che gli sposi entrano in due ma sembra che escono in due ma escono che dio ne vede uno solo qui gloria ci dà un ulteriore sfaccettatura che dice la stessa cosa dice che non escono in due ma escono in tre e tanto la stessa cosa quando uscirono dalla chiesa non ero più in due ma in tre dio andò con loro anche nella loro casa nuziale per rimanervi che operare la loro santificazione qui da un punto di vista ontologico se mi si permette escono in uno da un punto di vista fenomenologico escono in tre cioè dio li assisterà in tutte le vicende attinenti alla loro santificazione nel matrimonio a qui poi ci sarebbe da dire un'altra un'altra parentesi è meglio che mi sto zitto se no se no se se comincio a a tirar fuori la la diga repressa non rispondo delle mie parole poi andiamo avanti con la lettura che è meglio poi che eventualmente mi riservi un secondo momento col matrimonio di miei genitori dio voleva sanare la sessualità di mio padre e restituirgli molti doni per i meriti della purezza della sua sposa che già abbiamo capito che la moglie era arrivata al matrimonio come dio comanda almeno il marito non si capisce se forse no o se era già comunque un forse sì e comunque c'era lo spirito libertino e forse poteva guarire ma vediamo se si capisce in seguito ecco si capisce subito a riga successiva mio papà infatti fu introdotto da suo padre è la roba oggi molto diffusa ai piacere sessuali illeciti in età giovanissimi giovanissima a aveva solo 12 anni quando il padre lo portò in un post libero per l'iniziazione all'attività sessuale a questa oggi sapete quanti genitori quanti mamma perdonatemi l'espressione l'espressione un pochino è essere andiamo in explicit avete visto quindi ci si compirà ci comparirà la e sopra la catechesi direi i padri che si vantano che al ragazzino adolescente dico te lo do io il preservativo però mi raccomando usalo è bella roba aveste visto gli spiriti immondi che gli si erano attaccati addosso in un post tribolo a 12 anni questi spiriti che mi parvero larvi larve o sanguisughe si appiccicano addosso a tutti quelli che hanno delle relazioni sessuali extra coniugali iniziano ad appiccicarsi attenzione extra coniugali non significa adulterine no no significa extra coniugali cioè al di fuori del matrimonio non è che il ragazzino a 12 anni c'era la moglie l'ha tradita no sta parlando del ragazzino di 12 anni che si è iniziato con le prostitute quindi ci hanno le sanguisughe appiccicate addosso e iniziano ad appiccicarsi audite audite ai genitali per poi spargersi in tutto il corpo audite audite l'avete mai sentito queste cose in giro come che sta testimonianza veramente una bomba atomica sottraggono gli ormoni si insinuano nel cervello prendono l'ipofisi piano piano prendono possesso della parte neuronale dell'organismo ma ragazzi vogliamo chiamare qualche medico a dirgli queste cose o si farà le sue crasse risate rida rida sentite che dice prendono possesso della parte neuronale dell'organismo e cominciano a generare una quantità di ormoni che inducono gli sventurati peccatori ad essere maggiormente soggetti ai propri bassi istinti trasformando un libero figlio di dio in un essere talmente schiavo dei propri genitali da persuadersi che la propria felicità possa realizzarsi solo soddisfacendo il proprio istinto sessuale ecco che cos'è la sessualità di fuori del matrimonio che dovrei dire do you like ci piace questa roba qui avevate mai sentito dire che uno fa sesso fuori del matrimonio e ripeto ripeto è ti si appiccicano addosso i demoni in forme di largo sanguisughe c'è gente che manco ci crede che esiste il demonio pure tra i preti e padre ha morto dice a lui non lo dico io io penso contrario ovviamente perché ma padre ha morto diceva che gli risultava che anche tra i vescovi sa chi non ci credeva l'ha anche conosciuta con cardinale che non ci credeva però questo lo scrive padre ha morto è morto quindi speriamo non voglio non voglio adesso deve sembrare il riverente no dai genitali a tutto il corpo ripeto dopodiché sottraggono gli ormoni quindi i diavoli hanno la capacità di fare questa cosa a quanto dice questa sarà una cerebrolesa gloria gloria una 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 malata di mente come la chiameranno una una nevrotica una isterica io non sono molto pratico di queste cose sarà qualcosa di queste qua non lo so prendono l'ipofisi si insinuano nel cervello e incominciano a generare una quantità di ormoni che fanno diventare praticamente dei 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 sessuomani mi ricordo qualcosa un certo paolo di tarzo anzi veramente prima di lui un certo gesù di nazareth chi commette il peccato è schiavo del peccato ma ci si apre un pochino qualche qualche valvoletta eccolo che scuola che cosa significa questo peccato attenzione questo questo e io pregherei unilmente se posso permettermi di guardarsi come dalla peste bubonica ma se credeva la peste bubonica o non vorrei dire altre cose chi minimizza questi peccati argomento tipico è però scusate ma mica i peccati sono soltanto dalla cintola in giù perché qui sono tutte quanto una banda di sessuofobi che pensano che il peccato è soltanto dalla cintola in giù stanno tanti altri peccati che la superbia c'è la malizia c'erano andare a messa la domenica c'era bestemmia per carità tutte cose non vere verissime ma è capite il 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 veleno non è che non ci sono anche altri peccati ma per carità ma è che qui si sta come dire insinuando lo stavo parlando sempre di queste cose che tutto sommato non è che tutto sto granché io io personalmente ho sentito anime che andavano a messa tutte le domeniche tutte le e avevano anche cariche ecclesiali dire a me e madonna ma tu sei esagerato ma tu mi puoi far credere che ma 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 che sarà mai se uno c'è un rapporto prematrimoniale l'ho sentito con le orecchie mie potete non credermi non dico altro ovviamente io ho sentito con le orecchie in queste anime la grazia di dio non può penetrare con totale efficacia se non in virtù dell'intercessione di un'anima pura ma guarda un po mia madre era una donna molto pura ecco perché è stata quella che è stata capite perché la donna è la salvezza dell'umana famiglia e guardiamo maria di nazareth e impariamo qualche cosa magari e dio attraverso di dei stava ridando la gioia della purezza al mio povero papà e adesso la chicca se anche mio papà fosse giunto vergine al matrimonio come la mia mamma dio avrebbe potuto riversare ancora più efficacemente sulla coppia abbondanti grazie e ci sono le coppie anche adesso che non è che arrivano vergini arrivano ultravergini che non si danno neanche un bacio e chi non ci crede per favore mi venga a trovare io le chiamo perché le ho sposate io e gliene faccio conoscere gli faccio giurare sulla bibbia se non ci credono come hanno vissuto il fidanzamento per dieci anni non per una settimana se qualcuno non ci crede che che accadono anche oggi queste cose qui e non è una sola c'è almeno un'altra di cui sono certo e forse pure una terza nel primo atto sessuale dei miei genitori venne versato per volontà divina il sangue della purezza dei miei genitori purezza intatta in mia madre e riacquistata sacramentalmente mio padre questo fu il segno dell'alleanza di unità di santità dio ne venne glorificato è chiaro che il sangue della purezza evidentemente dipende dalla purezza della mamma questo è chiaro questo qui no la sessualità non è peccaminosa in sé dio l'ha data infatti in benedizione perché una coppia possa esprimersi attraverso un amore fecondo la vera sessualità però non esclude dio lo spirito santo è sempre presente sul talo monuziale perché se l'altare del sacramento dell'amore coniugale in altre parole nel talo monuziale si trova la benedizione del sacramento del matrimonio e vi abita lo spirito santo come soffre dio al vedere una coppia di sposi incapaci di vivere una sessualità piena che cosa intende con questo attenzione perché qui bisogna fare un po di distinguo finalizzare la sessualità esclusivamente all'unione della coppia è svilirla capite che significa la sua finestra è raggiunta quando la coppia persegue anche il secondo fine della sessualità umana attenzione mi permetto con tutto il rispetto di gloria che non è il secondo ma è il primo fine della sessualità umana cioè la fecondità almeno potenziale è in questa pienezza che la sessualità umana diviene un luogo di manifestazione di dio amore ovviamente redenta dal sacramento del matrimonio perché abbiamo sentito che cosa è la sessualità extraconiugale io qui sì ma con qualche distinguo ok però non è il caso ne ho parlato in altre in altre circostanze la sostanza di quello che che qui si legge va bene dire il secondo fine della sessualità umana probabilmente qui lo dice non che che è il secondo no ma nel senso che unire anche questo a quell'altro perché oggi praticamente quasi tutte quante le coppie si uniscono soltanto per stare ben insieme che è uno dei fini della sessualità umana sono tre neanche due procreazione unione degli sposi e il remedium concupiscenze che qualcuno oggi ha messo nel dimenticatoio ma c'è anche quello non è il più nobile ma c'è anche quello va bene il signore dunque ovviamente attraverso la verginità della moglie stava sanando la sessualità di mio padre ma lui piuttosto che assecondare l'emozione della grazia preferì dare ascolto ai sempre più pressanti inviti dei suoi amici i quali temevano che se fosse passato troppo tempo dall'ultima uscita con loro avrebbe finito per lasciarsi virgolette incatenare dalla moglie e non sarebbe più stato loro complice nelle bisboni a meno di quindici giorni senza un po dalla celebrazione del suo matrimonio mio papà si ritrovò in un post ribolo per dimostrare agli amici che continuava a essere lo stesso maccio di sempre appena mio padre peccò vidi che la bestia che una bestia infernale gli sottrasse il luminoso pastorale celestiale simbolo dell'autorità di capo di famiglia l'avete mai sentito adulterio perdi il pastorale celestiale vidi anche che degli spiriti immondi si appiccicarono addosso e mio padre da pastore della sua famiglia si trasformò in lupo feroce pit stop molto molto breve se qualcuno aveva mai sentito questa roba scriva un commento sul video di youtube mi faccio una mail una telefonata al numero che trova sul mio sito web ditemi forza io tutta roba non l'avevo sentita ma certo posso dire la sostanza se uno sente tutte le cose che ho detto su questi argomenti quindi sulla sessualità fuori del matrimonio sulla santità del matrimonio e sulla gravità dell'adulterio si lo vedete tantissime volte ma con questi dettagli con i diavoli che si appiccicano prima gli organi genitali poi dentro dentro il cervello poi ripudono gli ormoni ti rendono un puparuolo schiavo della sessualità e poi la virginità della sposa che ha la capacità di redimere lo sposo e l'ha fatto realmente anche attraverso l'atto consumato versando quel sangue virginale no come si capisce da quello che ha detto e dopo però il libero arbitrio la volontà umana butta alla fiume tutte le grazie ricevute dopo 15 giorni li fa un macello e guardate quello che succede la gravità la serietà le conseguenze del peccato andiamo avanti la mia vita fino ai 12 anni il momento della mia fecondazione continuando a guardare nel libro della vita vedi il momento del mio ingresso in issa tale ingresso non coincise con la mia nascita attenzione adesso ci divertiamo un altro po' tale ingresso non coincise con la mia nascita o con uno stadio avanzato del mio sviluppo fetale o andando ancora più arritroso con l'impianto dell'embrione nella parete endometriale dell'utero della mia mamma ma con la fecondazione dell'ovulo della mia mamma da parte dello spermatozoo del mio papà come la chiesa sempre creduto insegnato quando due gameti diventano uno zigote viene infusa l'anima e comincia una vita umana proseguono pure gli abortisti a dire la famosa il mantra no il mantra non è niente sono il famoso grumo di cellule prego avanti dopo quando saranno morti se non credono ricordate come dice Gesù nel Vangelo al Rick Vulone dice no 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 manda qualcuno che vada a Monilli che gli dica che l'inferno esiste hanno Mosè i profeti ascoltino no ma se viene un morto vedrai che cosa risponde Gesù se non ascoltano Mosè i profeti manco se è morto il risuscita quindi certa gente io prego per la loro conversione come per tutti si convincerà ascoltando la testimonianza di Gloria Po magari magari speriamo speriamo difficile però la contemplazione di questo evento nel libro della vita va bene al di là dell'osservazione del semplice fenomeno biologico nel momento stesso della fecondazione audite vidi una scintilla bellissima che innescò una portentosa esplosione quell'esplosione che illuminò come un sole il ventre della mia mamma era l'infusione della mia anima nello zigote nello zigote se uno vuole andarsi a come dire a vedere un'altra visione analoga se crede alla fonte vada a vedere l'annunciazione l'incarnazione del verbo non mi ricordo se è Maria Valtorto o è Maria da Creda uno dei due vada questa immaginate insomma l'anima di colui che doveva essere verbo incarnato insomma l'anima più bella che Dio abbia mai creato evidentemente no c'è la numero uno che è l'anima di Gesù e la numero due che è l'anima di Maria su questo siamo tutti d'accordo voglio sperare quindi immaginiamo che che esplosione di luce vi dico un stupore che la mia anima era già adulta è capace di relazione un bambino abortito un feto abortito anche un aborto spontaneo se lo si manda in paradiso con il metodo che io mi sono permesso di suggerire oralmente nelle catechesi adesso anche per iscritto perché si trova nel libro sui nuovissimi nella questione del limbo basta una messa per un bambino non nato ma quell'anima non è riuscita che cosa sarà che cosa è l'anima di uno zigote l'anima di uno zigote cioè l'anima non ha un'età come il nostro organismo biologico anzi l'anima di uno zigote se la manda in paradiso capace che si trovi molto in alto in un grado di perfezione molto molto alta proprio per la sua innocenza perché non ha potuto commettere questo non vuol dire che bisogna fare gli aborti diciamo va bello quindi meglio così no come scriveva Oriana Fallaci in una lettera non ha un bambino mai nato no non lo decidi tu questo qui se c'è un aborto spontaneo questo l'ha deciso l'altissimo per carità ma non lo decidi tu vedi con stupore che la mia anima era già adulta e capace di relazione era dunque già una persona sentite mi vidi colloquiare con Dio sono cose che noi non ricordiamo ma sentite cosa dice se ha colloquiato lei non è che lei ha colloquiato con Dio io sono Gloria Polo dovevo vivere questa grande esperienza dovevo diventare quindi la grande super mistica e quindi io ho avuto il colloquiato con Dio invece gli altri poveri mortali il colloquiato con Dio non ce l'hanno se lo racconta di lei vuol dire che questa è che ha avuto anche a me solo che io non io il colloquiato con Dio appena fusa l'anima io non mi ricordo niente sentite mi vidi colloquiare con Dio e decidere la missione futura basandomi sul ventaglio di proposte che lui stesso mi fece cioè questo veramente è da delivio amici miei cari come vedi ognuna di queste proposte degna di te ti è confacente scegli ne una liberamente siccome ero indecisa della mia scelta pur propendendo per una di esse Dio mi disse ma cioè ragazzi questo è proprio un delivio creatura mia hai adocchiato quella missione chi vorrei far notare e quest'altra ti sarà più facile sceglila se guardate se vuoi guardate se vuoi se potessi fare un po' di strilli e anche Gloria lo nota sceglila se vuoi aveva detto se vuoi l'Eterno e Altissimo Creatore di tutto teneva la mia libertà e la rispettava con profondo amore paterno no stavolta mi fermo sul 6 non mi sa eh o mi fermo oppure sto un'altra mezz'ora a parlare di queste robe Dio non solo mi indicò la missione che ora sto svolgendo ma la iscrisse nella mia anima come indirizzo per realizzare la mia pace e felicità e dotò la mia anima dei talenti necessari per realizzarla tra di essi vi erano i dieci comandamenti che sarebbero dovuta essere alla guida delle mie azioni la palizzata che avrebbe indicato i confini vitali entro i quali operare le mie libere scelte mi dico che sto curando con molta attenzione la revisione del testo sui dieci comandamenti molta attenzione i dieci comandamenti erano iscritti in me a carattere vivo e splendente fuoco avete capito noi abbiamo ricevuto una missione che pure se non te lo ricordi io a questo punto venite a pensare io ho scelto il mio essere prete in questo modo il nostro signore mi avrà detto guarda che io per te ho pensato scegliere liberamente se vuoi ho qualche sospetto perché pur sentendomi assolutamente indegno di quello che sto facendo e solo Dio sa quello che c'è nel mio cuore e è bene che lo sappia soltanto lui però vedendo tante cose la mia vita converge verso questa direzione e pensare che è nato in questo modo è veramente qualcosa di consonante no? vorrei essere tanto nei cuori di chi ascolta queste cose quasi per vederne un po' le risonanze sentite il meditare questa visione del libro della vita ubriaca la mia mente perché non solo mi pone di fronte al mistero della vita nascente e della necessaria sua protezione mi vedi infatti come un ammasso di cellule apparentemente insignificanti e nel contempo e nel contempo come anima adulta ma mi pone anche di fronte alla verità dell'eccellza dignità umana siamo dei dei questo non lo dice gloria giovanni 1034 è gesù stesso che citando un salmo dice io ho detto voi siete dei siete tutti i figli dell'altissimo dei non significa che siamo come dio ma siamo dei con la diminuscola e che cos'è che ci fa degolo è l'anima che viene direttamente da lui che porta la sua immagine alla sua somiglianza capaci di essere in relazione con dio perché a lui simili in quanto dotati per natura non solo di ragione avendo intelletto volontà e memoria ma anche di libertà la libertà è quello che ci rende similissimi a dio perché dio è l'essere libero per antonomasia dio non fa nulla per forza sappiatelo dio non fa per forza niente oltre che di spiritualità e di immortalità e adesso qui dirò qualcosa guai a chi non difende la vita nascente voi sapete che c'è in giro andate a farvi una passeggiata mi ha ripresurato diverse mail diverse cose forse bisognerebbe anche pubblicizzarla sui social c'è un'iniziativa di per far per modificare la maledetta io lo dico con tutto il cuore maledetta 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 e chi l'ha fatta provare e chi l'ha firmata dio li aiuti per i guai che per quanto mi riguarda passeranno di l'ansia divina giustizia e lo dico senza proprio nessun problema siccome vanno dicendo che la legge è untouchable e fammi sta zitto che anche qualcuno che dovrebbe dire ben altre cose pare che si erga avvocato delle cause non perse ma dannate e non perse c'è un'iniziativa di legge non ho approfondito molto che vorrebbe praticamente subordinare la concessione di abortire a far mostrare alla donna l'ecografia del coricino del feto che batte questa cosa ha scatenato molte molte discussioni perché c'è chi dice niente aboliamo la legge e basta che non si scenda a compromessi con una legge così iniqua posizione che c'è un'altra linea che dice siccome tanto questa non la blocheranno mai ed è moralmente lecito agire in questo modo si cerca di porre un piccolo argine cioè di evitare perché comunque sia ogni peccato di questo genere ogni aborto è una devastazione assoluta l'aborto è uno dei peccati satanici per antonomasia scusatemi tanto questi sono eventi pubblici quindi non è che nessuno può accusarmi io ho visto in passato tre secondi l'immagine del palco dove cantava una nota rock star satanista dichiarata che si chiama Marilyn Manson con dietro l'immagine dei feti abortiti io dico non mi fate citare un noto youtuber simpaticone che dice l'avete capita o ve la devo spiegare cioè dietro il palco di un satanista che sta cantando canzoni che sono un inno a satana ci sono i feti abortiti ma ve l'avete capito o ve la devo spiegare e c'è chi ha il coraggio del politicamente corretto capito l'intoccabile quella è l'intoccabile partiti sedicenti cattolici di opposizione eccetera eccetera che se non vogliono essere soggetti al linciaggio assoluto mediatico politico ti furono per forza adeguarsi perché se poco o poco si azzardano a fare mezza cosa io ricordo ma tanti anni fa ero ero un pischello dicono a Roma ma forse non ho manco trovato in seminario pensate c'era Rocco Buttiglione Rocco Buttiglione me lo ricordo mi sembra un sogno non vorrei dire una stupidaggine Rocco Buttiglione o so dire o so dire era candidato ad una carica credo che dovesse diventare non so se commissario o presidente del Parlamento Europeo qualcosa del genere adesso sono passati più di 30 anni o so dire ma non sarebbe il caso di provare a rivedere un po' rivedere un po' la 194 la fine politica di Rocco Buttiglione dal Parlamento Europeo l'ha visto col binocolo e da lì è iniziato un declino che tempo due anni Rocco Buttiglione è sparito è svanito è svanito sarà diventato un fantasma ma capito a che livelli siamo arrivati e io probabilmente sottoscrivo guai a chi non difende la vita nascente guai specialmente ai cristiani che per il loro battesimo confermato nella cresima hanno assunto il dovere dell'annuncio della verità e della denuncia del peccato noi non ci abbiamo paura non ci facciamo intimidire da questa masnada di pensatori del pensiero contemporaneo non dobbiamo non possiamo e non vogliamo abbiamo abbiamo assunto il dovere tutti dell'annuncio della verità e della denuncia del peccato chi rimane insensibile e indifferente sentite eh allo sterminio silenzioso delle fragili e indifese vite e non si adopera secondo le sue capacità alla loro difesa sentite che dice o dice lei non lo dico io eh io non lo so se c'era il coraggio di dire una frase così forte per la sua omissione sarà giudicato complice del crimine sociale dell'aborto capito applicazione del principio generale che il mare dilaga non soltanto per i peccati commissivi dei cattivi ma per le omissioni dei buoni che non lo combattono che non lo ostacolano che non quantomeno non lo denunciano ma io questo lo ripeto in continuazione lo ripeto quando tanta gente si lamenta di tante cose che succedono anche nella nostra povera e travagliata chiesa non faccio esempi ma come diceva il nostro maestro se mi perdona la citazione evidentemente di cui io sono completamente indegno chi può capire capisca dico si va bene tu tiramenti di questo di questo ma quando ti è stato proposto di fare questo l'hai fatto si allora devi stare zitto devi stare devi stare zitto cioè io non le voglio proprio sentire certi certi discorsi mi sono proprio stufato guardate veramente io sono contrario alla comunione in mano però mi hanno costretto non c'era altro da fare e quindi che cosa devo fare io questi discorsi non li voglio sentire fai quello che vuoi agisci secondo la tua coscienza però non mi venire a non mi venire a importunare perché se sei coerente con questa cosa qui sii coerente se tu ci credi sul serio se per te questo è un problema per la disciplina della chiesa attuale non è un problema chi l'ha deciso l'ha deciso se ne assumono la conferenza episcopale italiana che ha votato la delibera la santa sede che gliel'ha concessa quindi ok ma se per te è un problema tu devi agire in maniera coerente con il fatto che per te è un problema punto e basta se tu molli cedi si vede che non era sufficientemente come dire importante per te una cosa di questo genere non era realmente un problema non so se 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 mi spiego io per questo non dico sapete quante volte mi cercano di tirare dentro che cosa devo fare che cosa devo fare io non ti dico mai che cosa devi fare le decisioni sono le tue io ti posso orientare in base ai principi ti faccio ragionare il nostro compito i ministri di Dio è veramente veramente è il nostro compito anche reciproco di edificazione reciproca non è andare a dire fai così ci abbiamo Cassandra oppure l'oracolo di Delfi no il nostro compito è beh c'è questa cosa e rifletti in campo ci sono questo 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 e questo e quest'altro valore orizzontati vedi prega e decidi avete visto quanto nostro signore ci lascia liberi come rimane stupita se vuoi scegli questa missione questa guarda si potresti fare anche questa però questa è un po' più facile per te se vuoi scegli scegli la ma guardate se vuoi scegli la è impressionante sono contento anche che queste carichesi stiano avendo un discreto successo credo vedendo alcuni numeri sono abbastanza impressionato perché sono numeri un pochino atipici però a prescindere dai commenti che faccio io se facessi una semplice lettura come dire da offrire e basterebbe avanzerebbe sono veramente delle sollecitazioni importanti il mio battesimo ci abbiamo ancora qualche minuto il libro della vita mi presentò l'evoluzione della mia vita mi vidi crescere nella felicità fasciata dall'amore dei miei genitori e di dio che non mi aveva mai lasciato da quando aveva creato la mia anima l'apice della mia felicità fu raggiunto il giorno del mio battesimo il giorno in cui cioè durante il rito di aspersione ricevetti sulla fronte vedete il marchio sulla fronte il marchio di figlia di dio il marchio di appartenenza a gesù cristo e vidi i santi e gli angeli festeggiare in cielo noi nasciamo figlioli miei cari e tanto questo non ci crede più nessuno lo sapete che noi nasciamo con il marchio di satana mannaggia non è uno scherzo il contrario del peccato originale non è un gioco da da una leggenda o una cosa dice ma si famo sto battesimo che tanto stiamo in Italia con calma il battesimo toglie il marchio di satana lo toglie lo cancella e ti imprime quando il sacerdote fa unzione con il crisma il primo crisma che riceviamo lo fa non proprio sulla fronte un po' più in alto lo fa sulla testa verso la fronte sulla fronte proprio fronte si fa nella nella crisima quello ti imprime il marchio di dio perché il sigillo battesimale sapete qual è? sapete che ci sono tre sacramenti che lasciano il carattere tre battesimo cresima e ordine sacro qual è il carattere del battesimo? quello di cristiano il figlio di dio quello della cresima quello di soldato di cristo quello che ho detto prima il soldato di cristo non guarda a farsi la mattanza di bambini innocenti e dice ah vabbè ma questo non è il mio problema tanto io non lo faccio non lo fa non lo devi fare ma tu fai il possibile quanto meno chiacchieri ti opponi cerchi di far capire vai adesso perché sta cosa che ho detto bisogna andarla a firmare credo nei nei comuni non sono tanto informato ma comunque su internet c'è ci sta questa cosa qui l'iniziativa un cuore che batte dovrebbe dovrebbe chiamarsi fare qualcosa vai a firmare vai il giorno più bello l'apice della felicità è il giorno del battesimo il battesimo si dovrebbe festeggiare più della nostra data di nascita di più e chi sta ancora in tempo per favore non porti i bambini a battezzare quando è ora che prendono moglie o marito metaforicamente io ho battezzato a quattro anni cinque anni ma che è sta roba ma in che razza di mondo stiamo campando ho detto io devo fare monumento a mia mamma mia mamma è addestrata da mia nonno e sono stato battezzato a cinque giorni cinque anni così si fa adesso purtroppo io dico purtroppo dico purtroppo perché purtroppo che se qualcuno si trattorce la bocca la storcesse anche dalle nostre parti hanno proibito i battesimi in ospedale perché così faceva male lavorare un po' di più ai cappellani va bene è proibito non si può fare tu prima che nasce prima che nasce il figlio chiami il parroco prima due mesi prima devi fare il corso lo faccio prima devo fare il corso facciamo il corso quanti incontri sono dieci tre mesi prima lo chiami mi fai gli incontri prima se proprio mi devi far pagare la tassa la pago ma dopo che il bambino nasce io esco dall'ospedale vengo in parrocchia e tu me lo battezzi e se non lo battezzi mi toccherà chiedere nulla osta se ancora esiste grazie a Dio una volta di ossa si hanno tolto nulla osta così non c'è mai questo problema e lo battezzi da un'altra parte vuoi che ti faccio tutti i corsi che vuoi obbedisco ti chiamo prima quindi care mamme e papà come abbiamo visto sperando che ci abbiano ancora il pasto orale se non hanno commesso adulterio esco in c parte il fatto che quando si esce incinta si va dal parroco si fa fare la benedizione del grembo e del bambino lo fate io lo faccio a me lo chiedono sistematicamente e lo faccio con molta con molto amore con molta attenzione in quella circostanza dice anche padre io sono una sua figlia no sono una sua picorella guardi che io abbiamo la bella intenzione di battezzare il bambino uscito dall'ospedale non ci porta niente di pranzi sceni e colazioni volete una dritta facciamo un po' di pubblicità a mia mamma dico anche che oggi è il suo compleanno non sarebbe lo festeggio da un'altra parte e le faccio tanti auguri al 29 settembre è nata mia mamma ha fatto una cosa fantastica perché ha fatto il battesimo in ospedale col padrino e la madrina e mio fratello e mia sorella e basta dopodiché fine di tutto ci vediamo al primo compleanno quando ho compiuto un anno è stata fatta una bella festiccioletta per Leonardino e si è festeggiato insieme il battesimo e il compleanno problemi guardate io sono ancora io sono sopravvissuto senza troppi troppi traumi infantili perché non hanno fatto la festa del battesimo mio padre e mia madre non sono morti per questo motivo non è successo niente non è successo succede niente dai ci possiamo gustare la mia vita da non nata e poi ci mettiamo punto vedi la mia mamma intenta ad allattarmi con grande tenerezza l'effetto che mi aveva l'allattamento non era solo nutritivo per il mio corpo ma anche per la mia psiche e la mia anima mi dava la pace e l'amore mi trasmetteva con il suo latte lo spirito santo una santa mamma tanto può quanto era bello vedere la mia anima pura nel mio corpo di neonata ah dopo che era battezzata la mia purezza e innocenza era come un cristallo ma perché Gesù amava così tanto i bambini non lo siete mai chiesto lasciate che i bambini vengano a me perché chi è come loro appartiene al regno dei cieli ma il bambino è l'innocenza il bambino è l'innocenza l'innocenza piena di grazia come saremo tutti quanti in paradiso in paradiso si è entrato tanto così è come un cristallo attraverso cui filtravano liberi i raggi dell'amore di Dio raggi che infondevano amore e pace su tutti quelli che mi avvicinavano io innocente per la mia anima pura come Alba Serena ero un riposo un conforto un legame fra i genitori parenti gli amici con il mio visino fugavo le nubi e mettevo speranza con le mie carezze asciugavo le lacrime e infondevo forza di vita ovviamente la bambina l'anima di una bambina battezzata non è la stessa cosa perché mi è tanto potere? in me debole inerme ignorante ancora perché avevo in me Dio e lo vedevo lo vedevo e l'hai visto pure tu e l'ho visto pure io non ti ricordi non mi ricordo manco io lei in questo momento sta conoscendo delle cose attraverso il libro della vita di cui non siamo consapevoli la nostra vita non si misura in base al tasso dell'autocoscienza come dicevano i filosofi razionalisti da Cartesio in poi e come adesso praticamente pensano tutti Cartesio non è morto Hegel non è morto sono figli e vegeti pensiamo tutti come loro oggi vita uguale ciò di cui sono cosciente ah per forza che a fare la comunione a fare la cresima a confessare se c'è va nessuno perché la coscienza è zero di quello che accade zero perché accadono effetti spirituali come tutti i bambini lo vedono e ne danno prova quando ridono e gioiscono come se parlassero con una presenza invisibile avendo dunque Dio avevo la sua forza e la sua sapienza la vera sapienza sapevo cioè amare e credere sapevo credere e volere sapevo vivere in questo amore in questa fede gloria neonata era semplice pura amorosa sincera credente come tutti i bambini non vi è sapiente al mondo che sia maggiore al più piccolo di questi fanciullini la cui anima è di Dio e di essa è il suo regno Matteo 18 1 5 guardatevi dall'offendere uno di questi piccoli perché vi dico che i loro angeli contemplano continuamente nel paradiso la gloria del padre così ci prepariamo la festa di lunedì degli angeli custodi continuando a guardare nel libro della vita attenzione vedi che potrei vedere Dio fino a quando arrivai all'uso di ragione e cominciano i guai ecco i guai Dio da quel momento entro nel mio cuore per rispettare la mia libertà e farsi trovare nell'amore da me liberamente esercitato e di nuovo ricompare questo tema della libertà l'uso della ragione è il momento in cui si può cominciare a fare dei peccati quindi Dio fa un passo indietro rispetta la mia libertà e si farà trovare solo nell'amore da me liberamente esercitato lo so che molti diranno è già finito però è passata un'ora quindi dobbiamo metterci punto non ancora 58 minuti credo che passi veloce con questa roba però al tempo la prossima volta riconosceremo vedendo la mia vita di bambina Dio vi benedica e la Santa Vergina vi protegga amici e amiche carissimi